Grandi novità da Kensington Palace. La salute di Kate Middleton migliora. Quali sono le ultime indiscrezioni sulla principessa Kate? Scopriamolo insieme. I tabloid inglesi, come quelli di tutto il mondo, sono sempre sull'attenti per ogni minimo aggiornamento sulla salute di Kate Middleton. La principessa, malata di tumore, si è ritirata a vita privata già da molti mesi e Kensington Palace rilascia notizie con il contagocce. Ora pare che ci siano nuove indiscrezioni da fonti vicine a palazzo riguardanti la risposta di Kate alle cure. La situazione sembra essere ad un punto di svolta. Recentemente, il ritorno di William ai suoi impegni pubblici aveva fatto sperare in buone notizie. Il principe William deve essersi sentito rassicurato quanto basta per tornare ai suoi doveri, mandando un messaggio confortante ai sudditi. Tuttavia, Kensington Palace tace ancora sulla principessa Kate e non ha dato nessuna data per il suo ritorno in pubblico. Questo silenzio ha alimentato preoccupazioni sull'andamento e sugli esiti della chemioterapia di Kate. Se anche tu sei felice per le buone notizie sulla salute di Kate, lascia un commento qui sotto. Ma ora, dai media inglesi, arrivano alcune indiscrezioni. Kate sarebbe stata avvistata insieme alla famiglia. La notizia trapelata dal Daily Mail ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi della corona inglese. A quanto pare, Kate Middleton è stata vista alcuni giorni fa in compagnia della famiglia nei dintorni di Kensington. Secondo quanto riportato, la principessa sta rispondendo bene alla chemioterapia e si sente molto meglio. Non perderti nemmeno un momento. Abbonati ora per accedere subito a contenuti esclusivi che ti lasceranno a bocca aperta. Clicca e unisciti alla nostra community. Il V Magazine riporta che Kate è giunta a un punto di svolta nella sua terapia e tollera bene il farmaco. È stato un grande sollievo sapere che la principessa sta molto meglio, come si legge nell'articolo pubblicato sul Magazine. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!